Ciao ragazzi e benvenuti su Casti of Drums. Oggi sono in compagnia di strumentimusicali.net e voi mi direte ma oggi pacco così piccolo, pacco così leggero? Sì, tutto molto piccolo e leggero ma per fare un video che a noi batteristi sta molto a cuore. Nel senso, l'avete già visto dal titolo, questo è un video che in generale tutti stiamo aspettando. Io per primo, io ho voglia di fare questa comparazione tra Remo e Evans ma non la voglio fare nel modo solito. Di comparazioni tra Evans e Remo ce ne sono già tantissime. Quindi oggi ho deciso di fare una comparazione completamente diversa, di fare una sfida tra pelli particolari, cioè nel senso non sempre le solite pelli, le G1, le ambassador, cosa avrà una cosa avrà l'altra, che alla fine è sempre quella roba lì. Oggi voglio fare una cosa un pochettino diversa. Quindi andiamo a scoprire qui dentro che cosa c'è. Oggi non ho le forbici ma ho un coltello, quindi sono passato di livello. Allora, andiamo. Andavano meglio le forbici. Questo lo posiamo. Ammazza. Ok, muy bien, muy bien. Questo come al solito. Allora, molto bene, molto alto. Allora, per prima cosa ho deciso, beh in questo caso è vero, ho deciso di fare una comparazione normale ma questa è importante perché voglio farla anch'io. Cioè ho deciso di provare la differenza tra questa mia pelle ambassador normalissima e una G1 della Evans. Cioè nel senso, le pelli da rullante, alla fine, le principali pelli da rullante, quelle solite diremo Evans, sono la G1 per quanto riguarda l'Evans e l'ambassador per quanto riguarda la Remo. Ovviamente io ho un ambassador che è praticamente nuova, quindi ok, non sarà proprio identico, ma questa l'ho usata veramente pochissimo. Quindi voglio fare questa prova e capire bene qual è la differenza tra l'una e l'altra, perché molti le vedono come uguali. Ah è uguale, prendi una G1 Evans o un ambassador della Remo, è la stessa cosa. In realtà non è la stessa cosa. In più però, ragazzi, c'è una cosa molto importante, cioè ho deciso di prendere delle pelli che non uso da una vita, nel senso che praticamente ho usato ben poco in realtà nella mia vita, ma che voglio provare. Voglio provarle su questa Tamburo T5 e voglio vedere come si comportano, che sono le pinstripe, ragazzi, le pelli pinstripe che io ho sempre un po' snobbato in generale. Le pinstripe, ma le pinstripe non è che siano il massimo. In realtà le pinstripe sono delle pelli pazzesche e quindi sono anche cambiate in realtà nel tempo, da quando le prendevo io. Quindi voglio provarle molto bene, sono molto curioso e il concorrente di queste pinstripe sarà, per quanto riguarda Evans, le EC2, eccole qui, ragazzi. Tra l'altro le EC2 che mi son fatto mandare proprio con il pack di Evans. C'è un pack che ti manda 10, 12 e 14. Cacchio, ho sbagliato. Perché praticamente queste sono 10, 12 e 14, ma le Remo sono 10, 12 e 16. Ho sbagliato, ma fa niente, perché in realtà questa comparazione la possiamo fare ugualmente. Possiamo capire bene quali sono i punti di forza di queste pelli e capire soprattutto quali sono le differenze sostanziali di queste pelli. Quindi andiamo. Allora partiamo con il rullante, così vi faccio sentire come suona la batteria in questo modo qua. Vi faccio sentire il rullante come suona. Poi andiamo a montare le G1, vediamo come suona e poi andiamo invece a montare queste pelli e vediamo proprio la differenza sostanziale tra Remo e Evans. Oggi non vi voglio dire una va bene, una va male, perché tanto sappiamo che vanno bene tutte e due, ma voglio capire qual è la differenza proprio tra una e l'altra. Quando scegliere Remo? Quando scegliere Evans? Mi sono dimenticato di mandare la sigla? Vabbè, la mando adesso, sigla. Quindi direi che possiamo partire. Parto facendovi sentire il suono di questo rullante qui, ovviamente sempre il rullante di serie che viene dato con la TABUROTE 5, quindi non è chissà che rullante, ma sentite con la mia ambassador che avevo già montata sopra che suono riusciamo a ottenere. Vi ricordo ovviamente che gli ho messo anche un piccolo mungel, tipo uno di quelli nuovi della Remo e vi lascio anche questi sotto in descrizione, così almeno vi potete vedere, li potete comprare e sentiamo come suona il rullante con l'ambassador. Ovviamente il suono di questo rullante è veramente super secco, poi allora io gli ho messo in più questa sordina qua, ma perché? Perché l'ambassador, essendo una pelle monostrato, ha bisogno, almeno per quanto riguarda il suono che piace a me, ha bisogno di un pochettino di sordinatura. In realtà, volendo, si può utilizzare anche senza. Però ci sono un po' di armoniche che dà un fastidio, quindi a me che piace il suono comunque medio... medio, diciamo, né troppo acuto né basso, di accordatura, una sordina ve la consiglio sempre. Adesso vado a togliere questa pelle qua, vado a mettergli la G1 della Evans, vado a mettergli sempre questa mungelina qua e vediamo cosa succede. Pelle Evans G1 montata. Come potete vedere, già la sabbiatura di questa Evans è completamente diversa e si nota già dal colore. Probabilmente da in alto, ve lo farò vedere. Non so se si possa vedere, ma questa sabbiatura, nonostante queste pelli siano già un po' utilizzate, ma in realtà il colore della sabbiatura già è diverso. Quindi la sabbiatura di Evans e di Remo è completamente diversa. In più, devo dire che adesso ve lo farò sentire, ho cercato di tirare questa pelle nello stesso modo in cui ho tirato l'Ambassador, ma non è stato così semplice. Nel senso, si sentiva sempre una nota molto presente. Poi l'ho tirata un pochettino di più e allora quella nota è ancora presente, ma un pochettino meno. Ovviamente questo solo si suona sul rimshot, adesso la nota è abbastanza sparita. Comunque, detto questo, anche qua, essendo una monostrato, vi ricordo che sia Evans G1 sia Ambassador Remo, sono spesse 10 milz e hanno uno strato solo di Mylar. Proviamola un pochettino di più questa pelle. Evans G1 e Remo Ambassador dipende, dipende. Sembrano uguali perché sono nello stesso materiale, fatti uguali eccetera eccetera eccetera, ma la differenza di suono è tantissima. Quindi ditemi quale pensate qui sotto nei commenti. Io adesso vado a montare prima le pinstripe e poi dopo andiamo a montare le C2. Vediamo cosa succede. Quindi, pelli pinstripe montate, nel dubbio ho rimontato anche l'Ambassador della Remo sul rullante, così da fare tutto Remo questo set e devo dire, non so se ve l'ho già detto, forse ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto, non fa niente, questo set di pelli, le pinstripe, erano le pelli che utilizzavo tanti anni fa, cioè tipo 10-12 anni fa, anche di più forse, quando incominciate a suonare avevo deciso di prendere queste pelli perché erano super rock. Poi in realtà, dopo studiando eccetera, le ho snobbate un pochettino, devo ammettere. Nel senso, sono passato più al massimo alle Emperor, se dovevo prendere quelle doppio strato eccetera, e quindi non le ho praticamente mai più utilizzate. Adesso ho avuto la possibilità di fare questo confronto e ho detto, dai proviamo di nuovo a suonare con le pinstripe e devo ammettere che sono delle pelli pazzesche, cioè... ... 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